Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video, il secondo episodio della rubrica Una settimana con noi in autosvezzamento L'ultimo video ha riscosso veramente tanto successo e sono contentissima di aver tirato fuori una nuova idea per una nuova rubrica che vi è piaciuta così tanto E quindi eccoci qui con un nuovo episodio, mi raccomando fateci sapere che cosa ne pensate Per noi è importantissimo il vostro feedback giù nei commenti E se vi piace lasciate sempre il like Faccio una breve parentesi perché nella settimana che vedrete in cui ho registrato tutti i pasti Daphne è stata malissimo con i dentini I due incessivi inferiori hanno rotto la gengiva contemporaneamente E anche quelli superiori, tutti e due, hanno iniziato a scendere Praticamente quelli di sotto erano spuntati, cioè si vedeva proprio un pezzettino di dentino E quelli di sopra erano quasi trasparenti, cioè si vedeva la gengiva quasi trasparente Quindi immaginatevi lei sdentata che in una settimana ha avuto questo cambiamento improvviso Quattro denti tutto in una volta Quindi giustamente ha perso l'appetito E sono contenta anche di aver registrato in questa settimana involontaneamente Così vedete anche come me la sono un po' gestita E due, aveva delle crisi di pianto inconsolabili Mentre stava giocando anche piangeva, vabbè la notte non ve lo dico nemmeno E infatti la terza cosa è che ha passato delle notte a tacce E noi di conseguenza ha avuto molteplici risvegli Praticamente ogni 15 minuti si lamentava per il dolore, penso per il dolore E poi si svegliava, si riaddormentava e così via E poi giustamente avendo un sonno disturbato, così tanto disturbato Il tutto si riversava poi il giorno dopo Infatti queste settimane, queste ultime due settimane sono state molto difficili per me E sono scomparse anche un po' su Instagram Ma chi mi segue lo sa, purtroppo ci sono questi periodi E non è sempre tutto rosa e fiori come tante persone vogliono far vedere Ma a parte le mie mille parentesi, ma sapete io sono logorroica Vi lascio qui lo schema della settimana con la divisione delle proteine Tra carne, pesce, uova e formaggi È uno schema che io faccio sempre prima di stilare il menù settimanale di Daphne Io faccio sempre il menù in modo tale che so già cosa cucinare E soprattutto non mi ripeto sempre negli stessi pasti Per il pranzo del lunedì le ho fatto per la prima volta una vellutata Ho messo patate, verza e lenticchie E come sempre un giro d'olio Ora, non voglio ripetermi per ogni pasto Quindi considerate sempre sempre l'olio d'oliva come ultimo step Erano tre giorni che piangeva disperata per i dentini E aveva avuto un calo dell'appetito Quindi ho provato a proporle una consistenza più morbida Non del tutto liscia come vedete in video E l'ha finita tutta Ho scoperto che la verza le piace molto E ovviamente l'ho fatta per tutta la famiglia Solo che noi abbiamo aggiunto i crostini Per cena invece ho fatto le conchigliette con gli spinaci e i fagioli Che giuro ci sono anche se non si vedono Ma essendo decorticati diventa tipo una cremina quando li cuocete La sera solitamente non prediligo la pastina Cerco sempre di ingegnarmi a fare cose più sfiziose Perché diciamo che si distrave molto facilmente Offrendo però sempre un piatto bilanciato Ma visto che non sta mangiando niente Ho provato anche questa soluzione Che in realtà ha mangiato pochissimo anche questa sera Buon martedì Mamma oggi propone corallini cotti nel brodo vegetale Che faccio io E poi congelo in cubetti Per averlo sempre a portata di mano E vi consiglio di farlo perché è comodissimo Poi passato di verdure Ho messo zucchine, carote, patate, sedano, aglio e prezzemolo E come proteina mezzo uovo che ho cotto a parte L'ho fatto in padella strapazzato E poi ho mischiato il tutto con la pastina Ora fino ai 12 mesi quindi l'anno di vita È consigliato mezzo uovo Perché comunque è un concentrato di proteine E poi dopo l'anno di vita si può dare un uovo intero Credo che la pastina con il passato di verdure È uno dei suoi piatti preferiti Io lo offro sia con la carne, il pesce, che l'uovo E l'ha sempre mangiato tutto con piacere Fino all'ultimo cucchiaino Non me l'ha mai lasciato Per cena ho fatto la polenta con il parmigiano Che ho aggiunto in cottura E questa finta maionese che ha apprezzato tantissimo Vi lascio qui la ricetta E credetemi sa di maionese È davvero buonissima L'abbiamo mangiata anche io e Manu E come verdura ha mangiato i cavoletti di Bruxelles Che ho tagliato in modo sicuro a 4 in verticale Buon mercoledì, oggi le ho proposto i fusilli con una crema di ceci Visto che sembrerebbe sia un pochino meglio Quindi vediamo se ha voglia di mangiare in autonomia Poi sempre i cavoletti di Bruxelles Sono circa 6 cavoletti più o meno Sempre tagliati a 4 E infine le fragole Questa è la seconda volta che gliele propongo La prima volta le ho assaggiate in costiera amalfitana dai miei nonni E non è andata benissimo l'assaggio Però queste sono molto dolci e anche più morbide Quindi vediamo come le gestisce E io direi che è andata benissimo Guardate è rimasto solo questo pezzettino Per terra tutto pulito Abbiamo solo un fusillo e due broccoletti sparsi Quindi direi fantastico Per cena gatto di patate con prosciutto cotto Era la primissima volta che glielo offrivo Perché non le avevo ancora proposto il prosciutto In quanto comunque è una carne conservata Quindi con sale e ingredienti che lo permettono E anche il ministero della salute lo consiglia al massimo due volte al mese Comunque ho preso il prosciutto al banco Ho tolto il grasso Poi vabbè patate, uovo, prezzemolo, parmigiano, pangrattato Vabbè questa è la ricetta di mia madre Il tutto senza sale E l'ho fatto per tutta la famiglia E guardate ha finito tutto Le è piaciuto tantissimo E ha mangiato con gusto Poi aveva anche la sua porzione di broccoli Ma ho dimenticato di mostrarveli Buon giovedì Oggi ho fatto il couscous con melanzane e piselli Allora ho messo due cucchiai di couscous coperto con acqua bollente Lasciato per circa 5 minuti Ho sgranato con un cucchiaio d'olio d'oliva E aggiunto i piselli Che in realtà è diventata una crema Perché quando cuocete i legumi decorticati Non avendo la buccia diventano proprio in automatico Una specie di cremina E poi ho aggiunto le melanzane che avevo cotto a vapore E le ho fatto anche una porzione di fragole Visto che le erano piaciute Per cena ho fatto le polpette di soio e le zucchine Che poi ho impannato con un po' di pangrattato E ho cotto nella friggitrice ad aria Sono uscite perfette come consistenza E come carboidrati le ho fatto il purè Ormai lo faccio sempre io con una patata schiacciata Che allungo con un po' di latte intero E un pizzico di noce moscata E lei ama il purè Buon venerdì Mamma oggi propone Farfalle con macinato di vitello E melanzane Sono circa 22 farfalle Sapete che io vado ad occhio E non è bello da vedere questo piatto Però vi è sicuro che è molto buono È praticamente un ragù bianco E piano piano sta imparando anche a mangiare La carne macinata in questo modo Perché fino a poco tempo fa Me la lasciava tutta lì A meno che non era proposta in qualche polpetta O in un modo in cui Non vedeva che era carne macinata Per cena invece ho fatto la polenta E all'interno della cottura Ho messo i broccoli cotti a vapore Precedentemente Che avevo schiacciato con una forchettina Tra l'altro questa ispirazione L'ho presa da un commento sotto un video Svuota la spesa Dove vi avevo chiesto Come proporre la polenta In modi differenti E devo dire Approvatissima L'ho fatta ovviamente anche per me E per Manu E come proteine Le ho fatto l'orata Buon sabato Mamma oggi propone Pasta e formaggino E una porzione di broccoli Se ci seguite sapete che Questo è il suo piatto preferito È fisso una volta a settimana Lei impazzisce per il formaggino Appena vede solo la scatola Inizia ad urlare di gioia Fa troppo ridere E poi in combo con i broccoli Che ama Non ve lo dico proprio La sua felicità Per cena invece ho fatto La farinata di ceci È brutta nel piatto Obiettivamente Ma è molto buona All'interno c'è Acqua Farina di ceci La pasta E le zucchine Mischiate tutto insieme E poi cuocete in padella Con un coperchio Potete scegliere Qualsiasi verdura E formato di pasta Anche il riso Va benissimo Io di solito la faccio Con le zucchine Perché le piace molto L'accostamento ceci E zucchine E poi l'ho tagliata a pezzettini Perché ormai è bravissima Con la presa pinza Ma ovviamente Se avete un bimbo Di sei mesi Vi consiglio sempre I bastoncini Finger food Che risultano molto semplici Da afferrare per il bimbo Buona domenica Concludiamo la settimana Con le farfalline Con pollo E zucchine Il pollo L'ho sminuzzato Perché a pezzettini Come vi dicevo L'ultima volta Non lo vuole Me lo lascia tutto lì Cioè proprio Non lo guarda Nel piatto È come se non esistesse E ho insaporito Il condimento della pasta Con un po' d'aglio Per cena invece Ho fatto le polpette Di tonno e patate Ho utilizzato Il tonno in vetro Al naturale Come sempre Ho aggiunto un po' d'aglio E prezzemolo Per dargli un po' di gusto E poi Pangrattato Per fare la panatura E anche queste Le ho cotte in frigitrice Ad aria E come verdura invece Ho cotto a vapore Verza E carota E così L'ho mangiata volentieri Ovviamente L'ho mezzo tritato Vedete Ho fatto una consistenza morbida E l'ha finito tutto Quindi Verza super approvata È stata la scoperta Di questa settimana E con questo Abbiamo concluso La settimana Se non siete iscritti Recuperate Attivate la campanellina Per non perdere I prossimi video Vi aspettiamo anche Su Instagram E TikTok Vi mandiamo un fortissimo Un bacio E ci vediamo Con un prossimo video Ciao ragazzi Bye bo Ciao ragazze